ah ma la guarda celeste è accessibile e che palle sti alberi però dirò ma sei catturare il mio giù eh no appunto fai provare una no please vediamo se si vaga qualcosa si suca dobbiamo andare da misti che ha i capelli una palestra misti oh gesù parlagli usiamo surf che cazzo questo dice stupendo ciao allenatore un ragazzo di nome down è venuto a sfidare poco fa sfortunatamente ha vinto ma adesso non sfiderà forza lottiamo perché congratulazioni riceve ecco una mossa speciale di tipo acqua magari acqua in pulso è probabile andiamo sulla nave dei nazisti ciao si ho il biglietto benvenuto bene nave salvezza nave dei fattoni già nessuno ma devo mica la capitano la che ci penso si ma ci dovrebbe essere un down il dono guarda adesso arrivano dirige e dai e dai ciao 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 Grazie a tutti Immagino sei qui Per impedirmi di sabotare i motori della nave A parte questo, immagino tu sia qui Sei un povero illuso Ormai manca poco, sei pronto? Per cosa? Sono così tanti errori che gli errori piccoli sono nascosti dagli altri Non capisco perché mettermi i Pokémon così deboli a questi livelli A me va bene, però Ok, stream speed, ciao Ho portato Ho portato qua 10 Spazzoletti Ne sono rimasti due Nel giro di 10 minuti Il capitano possiede la mossa taglio In fondo la nostra missione iniziale era quella di arrivare alla Vandonia Ma gli eventi cambiano, a presto Minchia, gli eventi cambiano così tanto che si sbagliano i teletrasporti Yak, è bloccata Cosa è bloccata? Roar, sono molto stanco Alfa, massaggio il capitano Wow, mi sono ripreso, è incredibile Conosci la mossa taglio? Serve per tagliare gli alberi che ti bloccano le strade Te la voglio regalare questa mossa se non ti dispiace Eh no, eh Eh esatto Scusi se la, se la tenga pure Che se la vedete dei misti Ok, bla 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 Ciao Nooo 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 Lo sacco teoricamente, ora abbiamo sbloccato il percorso in parte a... Eh, Aranciopoli che si collega alla Vandonia Eeeeee... Cazzo, alberi ovunque Winghia, dai, insegna di taglio Vediamo di che colore è, taglio Viola Wow Eh, la posso imparare beccanti Beccanti, dai Lo rendiamo lei, cem, sleve, vedi, di turno Beh, con quel graffio Winghia Tu scherzi ma in Pokémon Origins L'hai visto te? No, no, l'hai visto Eh, praticamente la... Alla Lega Blu Che sono blu contro rosso E rosso a Charizard con taglio Winghia Master of Pokémon Cosa? E' normale che... Best Mapping EU Bellissimo Cosa? Ghost 1 Lo so, catturiamo? Winghia si Sai, come lo chiameremo, vero? Diak Si, cazzo! E adesso, friga niente, torniamo indietro Who you gonna call? Ghost Nappa Yeah, here we go I am hilarious and you will quote everything I say E' bevisto su faccialibro C'è una nuova opzione, non megarubino al fazzapuro Ovvero? Puoi mettere move Pokémon al primo posto Oh, nè da... Tormento sarebbe Tormento ma è attaccalite Ok Destin segna... Porco giusta Basta, io metto davanti Ghost Nappa E adesso arrivi Andiamo qui Pescatore Come tutti, anche io ti regalo un amo per pescare Sì, no Tieni e pesco i tuoi amici Pescare tutta la mia vita Anche in questi tempi bui Io mi diverto a pescare Come hai fatto sulla parete? No, ma... Vabbè, andiamo Oh Oh, cazzo Via, via Scappa Ah, pensi che l'acqua possa fermarmi? Docta Viac Siamo arrivati E non abbiamo Spaccarot No, aspetta No, aspetta Spaccaroccia La davano A Primisola Sai dove dobbiamo tornare? Dobbiamo andare a battere Blaine Per far attivare lo script Di Bill che ti viene a prendere Sul motoscafo Per andare a Primisola Che due coglioni A Primisola E poi A Primisola A Primisola